ciao a tutti amici e bentornati oggi ASMR su Subnautica perché mi sembrava semplicemente doveroso per condirlo abbiamo una lattina mini di coca cola e qualche patatina ho pensato di fare un video così dovevo arredare questa zona della base sottomarina quindi appunto ho voluto prendere una pausa dalle solite live su Twitch e fare un video ASMR inedito di arredamento tranquillo qui su youtube per farlo possiamo fare un bancone probabilmente avremo anche da recuperare dei materiali può fare una cosa così distributore automatico però quasi quasi non mi metterei qui dobbiamo mangiare anche vetro e titanio titanio ce l'abbiamo il vetro no mi pare due di quarzo ecco qua strutture fondamentali che comunque ogni dot cioè io spero che ogni dot usa non l'ho capita come funziona un mix di patatine scusa e mi consuma acqua ma pensavo che fosse un distributore di barrette energetiche che schifo non l'hai già accaduto bene da dire che cosa sa quindi inizia anche via avanti a unico dovremmo fare questo del caffè quello che mettiamo dietro al bancone giustamente credo vuoi vedere questo come funziona? no c'è qualcosa ah si ma che cazzo caffè americano vero espresso italiano diluito con acqua con acqua americana insapore eh ok beh non male dai qualcosina a gratis forse un po' più basso ci voleva non lo so ma ci sta poi e calorie qua possiamo spammare un po' di snack non so a che prezzo mi sembra strano così a gratis spammiamo un po' di patatine e e e e e e e e e il fluido ma era lui questo è un ottimo pesce perché ti da tanta acqua ok ok detto ciò cos'altro potremo fare ancora ora un'insegna ci sta e non un'insegna ci sta un po' piccolino posso ingrandire? no questo va proprio così vabbè ok ah con le frecce ah ho capito così allora ecco comunque si qualcosa di questo tipo però veramente parei tanto mi ridanno mi hanno detto almeno che mi ridanno esattamente gli stessi materiali io farei un po' più close si molto bello e così qua ci mettiamo davanti al bar ci potrebbe stare addirittura qui non so neanche io oh dai qua è l'altro vetro titanio abbiamo finito anche il titanio attenzione aspetta però che prendiamo per fare il vetro e abbiamo finito il titanio quindi andiamo a vedere di recuperarlo ma visto che è più rilassante ancora anche se non è necessario ho visto appunto che è più rilassante il suono a me piace molto andiamo con la perla viola a me piace quando questo rumore di quando andiamo a raccogliere un po' di rottami il computer da quando sto progredendo un po' nel gioco fa sempre più fatica sento che qua abbiamo appena iniziato a giocare ma siamo già con la ventolina un po' troppo emozionata peccato che ne va anche nell'smr qui ma dispiace ma appunto sto vedendo di progredire più velocemente possibile nella direzione del potenziamento qua me la dimentico mi dimentico sempre di avere il parcheggino eccoci qua lo squaletto è diventato un po' più grande oh si è calmato qua è vitro e possiamo anche smontare i rottami in altro titanio ok non so mi verrebbe da metterne un altro qui così tipo o se no qua e abbiamo un po' finito il quarzo con questi tavolini ecco qua ecco qua ecco qua il cestino lo mettiamo qua o qua così addirittura non male guarda che bello praticamente come me lo immaginavo però però appunto non abbiamo ancora una sedia da bar vediamo se si sbloccherà non voglio usare questo perché ancora non mi sembra ottimale ci starebbe soltanto del titanio mi chiede fioreria da parete va a vedere innanzitutto dove si può ah ok eh di qua poteva essere una bella idea ma come bisogna fare qua me lo do in alcuni punti qua non si può mettere da nè minchia no siamo costretti è che qua non mi piace anche se è che non so se si può cambiare l'illuminazione perché troppo è il neon accesa se si potesse fare qualcosa di più non so come dire un po' più buio appunto per risaltare un po' i colori sarebbe una figata accidenti guarda che bellissimo ma non mi fanno male ok ecco questo era un piccolo video smr su subnautica mi piacerebbe fare ancora qualcosa in qualche modo fatemi piacere e sapere ovviamente se vi è piaciuto o cosa e in caso cosa vi piacerebbe vedere ripeto ripeto la serie è in live non è smr ma è in live sandwich comunque a me molto rilassante ma guarda che è cresciuta anche sta pianta è molto molto rilassante con l'olio non mi dà aspetta si fa così no che è successo così piantiamo anche questi perfetto ok così abbiamo un po' di olio che non fa male e questa insomma è un po' la base che qua stiamo proseguendo per andare verso la base aliena anche se credo sia un po' una cosa lunga lunga e dolorosa di qua ma dovevo ancora finire di fare la scala e oddio questo bisogna fare mamma mia eh sì ci sono tante cose comunque ho finito il titanio va bene appunto vi ripeto amici fatemi sapere se vi piace se vi è piaciuto questo video cosa perché io per esempio un'altra idea sarebbe quella semplicemente di fare un video in cui come vi ho detto prima a me piace tantissimo il suono del Seamot quando siamo andati quel veicolo prima in acqua a me piace tantissimo il suo suono e io farei semplicemente un video mentre continuiamo ad andare anche no talking semplicemente appunto proprio una cinematica perché il suono è veramente bello e e anche il mare va bene vi ringrazio per la visione soggi che dire buon relax buona vita ci vediamo su Twitch o prossimo video qui su Youtube ciao belli ciao 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 ciao